Damiano Gersomino entra nel Consiglio Nazionale di Confcommercio. Al termine dell'Assemblea Nazionale che si è svolta a Roma lo scorso 15 luglio, il presidente di Confcommercio Foggia e della Camera di Commercio Territoriale è stato nominato come membro del Consiglio, un incarico importante per il territorio e le imprese della provincia di Foggia, che vede un suo esponente di rilievo far parte del massimo organismo della Confederazione. Sono onorato di poter lavorare al fianco del presidente Sangali e mi impegno fin d'ora di trasferire a livello nazionale le esperienze virtuose del nostro territorio per un maggiore sviluppo del comparto commerciale, turistico e dei servizi. A Roma porterò le istanze del nostro territorio ma anche proposte strategie che possano tradursi in ricadute positive a livello locale, ha dichiarato Gersomino.